Ed eccoci con Nicola Cipriano, un docciatore per questa circostanza qui a Civitanova del Sannio, ma un vecchio amico di Molisani a Roma, il nostro programma che si occupa proprio degli amici che sono appunto a Roma con le loro attività. Il signor Nicola ha appunto il ristorante Il Bù che noi siamo andati tra l'altro a visitare proprio con Molisani a Roma e anche a degustare ottimamente. Allora signor Nicola, e lei è rientrato qui per questa bellissima e tradizionale occasione? Certo, io perché tutti l'anno, sto a Roma però non mi sono mai distaccato come ebbe modo da dire l'altra volta. Non ha mai staccato il cordone ombelico? Allora tutti l'anno le feste sono qui e porto l'antoccia pure come l'orda. Da quanti anni porta l'andoccia? Sono 10-15 anni insomma, quasi dall'inizio. Questa però era una vecchia usanza, poi è stata ripresa e da allora l'ho sempre portata. Qual è il significato per gli abitanti di Civitanova ma anche per coloro che portano Civitanova nel cuore tutto l'anno nonostante non ci vivano? Dopo questa giornata poi ci cambia un anno di ricordi, tante cose, persone che mancano e diciamo che è una tradizione insomma che poi vale, è come quando uno mangia per la giornata però questo poi l'animo è per tutto l'anno. E naturalmente per i tanti visitatori che appunto stanno arrivando in questo momento a Civitanova del Sannio un punto ristoro con dell'ottimo vin brulee e non solo. Siamo con Gioacchino e Giuseppina che accoglieranno naturalmente tutti i visitatori come dire deliziandoli con qualcosa di caldo. Allora signor Gioacchino, lei è pronto? Sì. Sì. Prontissimi, prontissimi sì. Allora dietro di voi... È tutto pronto, il vino è fatto in certo modo insomma vabbè. Allora dietro di voi avete un grandissimo, ecco la telecamera sicuramente sta riprendendo, questo grande calderone. Calderone sì. E dentro cosa c'è? Ho preparato io, ci sono arance, limoni, mele e le spezie, noce moscato, chiodi di carofano e cannella e poi mettiamo lo zucchero. Molto bene, dopodiché a una certa ora sarà servito naturalmente per tutti. È molto caldo, adesso lo portiamo a ebollizione, si deve preparare, si deve insaporire, ci vuole un po' di tempo e poi dopo lo offriamo ai tanti visitatori che vengono all'andocciata e all'indocciatore. E naturalmente insomma, loro primati... Soprattutto agli indocciatori. Allora vedo che il signor Giacchino ha sul cappello il, come dire, il simbolo no? Un po' dell'andocciata, le palline e... Ogni anno è un simbolo. Quindi anche lei è portatore di indocce, ne ha portate... No, 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 sempre qua. Ah quindi nella partecipazione all'andocciata e in questo ruolo. In questa postazione qua sì. Vedo anche che avete un abbigliamento, insomma, vi siete un pochino unificati e anche in questo c'è una simbologia? Sì, sì, anche questa è per avere, per fare un po' di scena, diciamo. Rappresentiamo anche noi gli indocciatori. Gli indocciatori comunque ci hanno il mantello, mantella o mantello come si chiama. Va bene, voi comunque qui siete al caldo perché, insomma, avete una postazione ben cautelata, quindi in bocca al lupo. Il tempo ci accompagna, che non fa tanto freddo, è così. Gli altri anni, qualche anno ha nevigato in questo periodo qua, quindi è stata anche più suggestiva la festa, sì, bellissima. Lei è di Civitanova? Sì, di Civitanova. Vive qui? Sì, vivo qui. Vediamo un po' se ho imparato, da quanti anni le porta l'andoccia? Guardi, guardi, sono preparatissima. Cinque, sei, sette, otto, nove. Sono tredici anni, da appena iniziare. Lo sapevo, ho sbagliato, ho sbagliato, signor Gioacchino. Aspetti, eh. Devo inserire stasera un altro bonbon che equivale a cinque anni. Ah, ecco, le manca allora uno. È da mettere, è da mettere. Va bene, perché se no io sulla preparazione c'ero. Allora, poi abbiamo una nuova generazione. Io sono Cristian. Quanti anni hai? Ventinove. Eh, anche tu, insomma, sono diversi anni che porti. Stesso il bonbon. Quindi da quanti anni porti l'andoccia? Tredici anni. E ne hai, abbiamo detto? Ventinove. Quindi hai iniziato prestissimo. Sì, sì. Quindi diciamo una tradizione che ti ha tramandato magari il tuo papà, il tuo nonno. Ah, è quel papà che è proprio alla tua destra. Alla mia destra, sì. Bene, infatti avete la stessa numerosità di segnalini sul cappello. Allora, poi abbiamo un ragazzo ancora più giovane. Andrea. Tu quanti anni hai? Ventidue. E anche tu da diversi anni, devo dire, che porti questa andoccia. Sì. Quindi hai iniziato che la tua andoccia era piccolissima. Sì, sì. Molto bene. Che significato ha per te, diciamo, partecipare a questa tradizione? Anche per le nuove generazioni, che sensazione vi dà? Cosa significa per voi? È una bellissima tradizione che deve essere continuata negli anni. Appunto, sin da piccoli bisogna crescere e portarla avanti. Molto bene. E infine, qui in sfilata, abbiamo il signor... Jacopo. Quanti anni hai? Ventotto. Ventotto. Primo anno per te? No, no, mancano un po' di... Ok, mancano le indicazioni sulla tua partecipazione, ma il mantello, il cappello c'è tutto, l'andoccia è anche abbastanza pesantuita. Sempre presenti per questa bella manifestazione. C'è un altro piccolo portatore di indoccia. Tu come ti chiami? Dario. Dario. Tu è la prima volta che partecipi? Seconda. La seconda. Senti, ma tu porterai l'andoccia accesa? No. Perché potrebbe essere un po' pericoloso. Tu magari andrai avanti al gruppo. A te chi ti ha invogliato a partecipare invece? Perché è andato pure lui, che per fratello sono andato anche io. Ok, quindi tuo fratello è deciso di partecipare anche tu. Ma abbiamo anche un indocciatore anche un pochino più piccolo. Tu come ti chiami? Gabriele. Gabriele, quanti anni hai? Sei. Sei anni? Per te è la prima volta? Sì. Pensi che ti divertirai? Senti, ma è freddo o stai caldo sotto questo bel mantello? Freddo. È freddo lo stesso? Eh, sì, eh. E questo chi te l'ha messo indosso? La tua mamma? E di chi era? Amica lo sai? Era di papà? Era di nonno? No. È tuo? Oh, ecco di qua. Allora, ne abbiamo un altro piccolino. Tu come ti chiami? Gioele. Gioele, anche tu tutto imbacuccato, ti hanno coperto. Tu quanti anni hai? Non lo so. Come non lo so? Cinque. Cinque anni. Oh, lo abbiamo scoperto. Allora, anche tu e la tua piccola andoccia, andrai da solo in questo sfilato o ti accompagna papà? Ti accompagna papà. Ciao, ed eccoci in compagnia di due civi tanovesi nel cuore, anche se durante l'anno vivono fuori entrambi. Abbiamo Matteo qui, che durante l'anno dove vive? Io vivo a Londra. A Londra cosa fai? Studio in un'accademia di recitazione e torno poco spesso, diciamo, perché torno qui solo per le feste. Però mi piace sempre rimanere attaccato a sta bella andoccia. A questa tradizione, alla tua andoccia, che naturalmente quest'anno ha un significato in più, anche quello legato alla speranza, la speranza per, come dire, per l'anno nuovo e per, naturalmente, una vita migliore per tutti. Certo, cioè, è anche legata un po', tra virgolette, egoisticamente a progetti personali, no? Quindi uno ha sempre delle ambizioni e piace, lega la tradizione a quello che accade tutti i giorni. e quindi è sempre bello rimanere collegati tra le due cose. Molto bene. Matteo, invece, alla nostra sinistra abbiamo? Antonio. Antonio, tu dove vivi, invece? A Foligno. A Foligno. E anche tu, naturalmente, di rientro per le festività natalizie? Sì, nel centro Italia. Certo, dico, per le festività natalizie, di rientro, anche per questa bella tradizione. Sì, esatto. Infatti sono alcuni anni che manco, però quest'anno ho deciso di partecipare. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto.